da come ho visto prima c'è una nuova stagione e la season 11 bene non me l'aspettavo è un po sì perché il risultato rango va bene cosa ci trovo ok bene perché non c'ho più la foto mannaggia vabbè no non voglio abbandonare aiuto lo condice annulla annulla ok bene ok bene e salve salve a tutti ragazzi mi chiamo luigi bentonati in questo nuovissimo video di creative discussion allora come state spero bene allora oggi che cosa faremo oggi come su fortnite visto che poi praticamente lo stesso oggi finalmente è arrivata la nuova stagione ovvero il pass stagionale di creative discussion e ho già guardato un pochino le skin tutto per quanto bene non è che mi facciano proprio pazzire anzi mi piacciono proprio per niente se devo essere sincero non acquistate il pass battaglio al massimo acquistatelo per i vari picconi o qualcosa del genere però però per me le skin no non ci stanno per niente le skin allora intanto però sono uscite nuove skin skin però sono uscite nello shop andiamole a vedere pacchetto bella 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 l'auto bella 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 è bellissima ma c'è anche l'auto c'è questo andiamo consiglia che bella che bella che bella è bellissima bellissima lo voglio anche il drago non è male anche questo la macchina è una cosa bellissima è una cosa bellissima questo bello bella è molto bella molto molto bello quindi allora certo praticamente il transformer ci sono ovviamente anche i backpack le ali molto bella c'è io comunque la skin che vorrei usare un attimo e me lo faccio vedere questo questo Poi praticamente Non c'è nient'altro No Poi come paracadute Muo malato multigiocatore Diciamo che Si è molto meglio il drago E' molto meglio Questo drago qua Però comunque non mi dispiaceva Ah ma si può usare in tre Lago d'acciaio Uomo malato multigiocatore Lago d'acciaio che può trasportare fino a tre passeggeri Ma si può Ma si può avere Soltanto per Multigiocatore o anche in singolo No perché Se si può avere soltanto in multigiocatore Io non so Comunque la mia skin Vorrei Ehm è questa Cioè io vorrei assolutamente Comprare questa skin Perché è bellissima Però quest'anno non potrò Perché Ne hanno già fatto il regalo Ovvero Di shoppare i puzzle battaglia Quindi no Comunque ti avrò un giorno eh Prometto che ti avrò Poi il portatile Io non uso questo Questo non mi dispiace Super Nello stile 3 Non mi dispiace Però Non vorrei Sprecare soldi Poi Beh io userei questo Sì Molto bello Questo Questo è molto bello Quello lì è molto bello Questo Non mi dispiace Questo è Bellissimo Ehm Sì Anche questo Molto bello È bellissimo Anche questo Però mi sembra Più forte questo Poi ci sta anche molto bene Poi come scia Poi come scia Intanto la macchina Questa qua Beh questa è bella No ma No molto No Questa Va bene Questa che cos'è? Ah praticamente la versione ridotta di questo Ok come Io però Io come prima macchina Avrei voluto questa Tantissimo Però adesso Vorrei questa Vorrei assolutamente questa Se non fosse Se ci fossero anche state le mitragliatrici La mamma mia L'avrei amata più di qualsiasi altra cosa Cioè pensate questa macchina con le mitragliatrici Troppo bello Antigiocatore C'è questa azione Beh Che ne dite Se per questa season Ci scioppiamo qualcosa Ehm Allora Questa ce l'ha già Vabbè Questa cioè Come scia Io Come scia Non posso comprarmi niente Cioè Non posso comprarmi niente Però Dai Ma si è già 6 minuti di video Allora Dobbiamo andare subito In battaglia Però prima Come sempre Io vi ricordo di Iscrivervi al canale Attivare la campanellina Delle notifiche Che io adesso Non posso attivare Mannaggia mia Lasciate un bel mi piace E anche un bel commento caldo Con l'hashtag del giorno E mi raccomando E mi raccomando Fate iscrivere Al mio canale Youtube Anche i vostri amici E niente ragazzi Noi possiamo iniziare Questo video Ma prima Sigla Ok ragazzi Sfortunatamente Non ho potuto Acquistarmi niente Perché non ho abbastanza Monete stellari Però andiamo qua in deposito E ci mettiamo Questa Equipaggio E come accessorio Ci mettiamo Anche questi No Sì 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 Ci mettiamo questo Ok bene Adesso Possiamo Andare Dove andiamo Modalità squadre Sì dai Modalità squadre E noi ci vediamo Lì Quando inizia ovviamente La partita A dopo Ok Eccoci qua Un attimo Ecco qua Sì Dai andiamo Allora Intanto siamo Modalità squadre Il parco del leone Assolutamente Ah ma beh Sono rimasti Poi all'interno Nove Sul bus Intendo Andiamo Automatico Andiamo Tanti Mail Ecco qua Ci metterà Una vita Andarrivare Loco Poi a me Non mi è mai portato Del passo battaglia Di creative destruction Devo essere sincero Non mi è mai importato No Una morte Del donno Andiamo 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 Qui sicuramente Ci sono Già stati Inaltri Invece no Invece sì Proprio adesso Proprio adesso Ma poi E' un nemico O mio nemico Come si fa a mirare Che non mi ricordo E' qua su Come tutto Non ci credo Vabbè ovviamente Non mi do Un'arma Dai Cosa ho fatto Oh cos'è sto rumore E vabbè Io ci voglio E vabbè Io ci voglio Per forza C'è un po' C'è un pistoletto Ok Andiamo Andiamo sempre qua Ok bene Perché poi siamo anche vicini No Perché non mi hai fatto Atterrare Maledetto Giaco Ok Dobbiamo andare Proviamoci 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 Ok Andiamo 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 Allora C'è sta Devo avere Solutamente Una skin Anche qua Ah poi Mi potresti dire Cosa sono Le pareti Da stanza Perché io Non l'ho mai Capito A parte Che di poi Non le potrò Avete Oh grande Grande Questa qui Molto Molto Mello Mi sto Dicendo Mi potresti Spiegare Un giorno Cosa sono I pareti Da stanza Perché Io Non l'ho mai Capito Ovviamente Ovviamente Non mi ha Non mi ha Lasciato Il soluto Ok Grande C'ho anche La visiera Volevo Proprio Quello Vincere Dobbiamo Assolutamente Vincere Ok Bene Ma Allora La gente Non costruisce Molto Oggi Poi Su Fortnite Ho fatto Anche Vittoria Reale Il problema È che Io Su Fortnite Quando faccio I video Youtube Io vinco Quando non Faccio I video Youtube Io Vinco Sempre Quando invece Li faccio Non so perché Ma non vinco È una sportina Questa Dobbiamo Tutti Dei spari Ma Chi è Dio Che Non è tutto Penso A spannare C'è 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 Ce ne sono due Ce ne sono due Cosa volete che io faccia Devo andare Assolutamente Con i miei amici Però stiamo vincendo Stiamo vincendo Dove sono i miei amici Ok Eccoli Infatti Uno è lì Ok Andiamo Andiamo Beh no Già Delito Un Presumerò Che questo video Sia lungo Ma sarà Molto Lungo Chi è che sto parlando Che cosa è Ma cosa What Va bene Va bene Ce n'è uno Ce n'è uno Ce n'è uno Ce n'è uno Come si costruisce Che non mi ricordo Ecco Non mi ricordo Neanche più Come si costruisce No Ma perché non mi hai fatto Costruire la scala Marrani Ma basta Oh ma cos'è Ma che cavolo No Sto morendo sempre Non va bene Non va bene No Sono in vantaggio Alessi nemici No Sono in vantaggio Ecco No No Killato uno Ma io Da uno Va a killarmi 75 Eh vabbè Ce n'è un altro Sì Una sconfitta Un ucciso Intendo Un altro ucciso Grande Mi ha fatto Né un colpo Grazie Chiunque Sia stato A killarlo Uh Guardate cosa c'è lì Ma basta Se io voglio Costruire la scala Perché me la fai costruire Ok È molto difficile Costruire qua Eh A parte che 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 Poi Ma sei un Ma io sono un buono Non sono un cattivo Grazie Che problemi ha Sto qua Airdrop Airdrop Is coming Qu'è? Dai 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 Grande Dai 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 Eh non vinciamo però Non vinciamo Mannaggia Sono 83 kill da Noi siamo a 65 Mentre loro sono a 74 Mannaggia A parte che poi Alcuni sono fermi Mi servono assolutamente colpi Poi Per quest'arma qua Usiamo il cecchino Eh vabbè Rega Mi dispiace ma abbiamo perso E niente Me sono arrivato Quattresimo Mamma mia Sono arrivato quattresimo Tra i migliori Vabbè Torna alla sala Ragazzi io spero tanto Che questo video vi sia piaciuto Come sapete Iscrivetevi Commentate Se non vi siete ancora iscritti Al canale Io vi consiglio di farla Adesso Noi ci vediamo Con un nuovissimo video E niente Un saluto Ciao Vabbè Quattresimo Quarto Grazie a tutti Ciao